Ecco un po' di persone sono venute anche oggi, ci sono un po' di persone anche oggi che sono venute e ringraziamo le varie persone che sono presenti, oggi è una bella giornata, una bella giornata di sole, il sole risplende e ringraziamo le varie persone che sono presenti, varie persone felici, felici di mangiare, di stare insieme noi preghiamo che il Signore li possa benedire grandemente una giornata dove splende il sole ma anche se non ci fosse il sole, il Signore splende nel nostro cuore e Lui è il nostro sole Lui è la nostra vita, Lui ci dà la via, la verità e la vita ringraziamo il Signore per questo momento che abbiamo trascorso insieme siamo stati a mangiare insieme, adesso tra un po' ci sarà la condivisione della parola di Dio e grazie a Dio